Potenziati i controlli alla Baia Verde di Gallipoli al termine di un tavolo di confronto sull'ordine alla sicurezza pubblica, prefetto, forze dell'ordine comune di Gallipoli hanno deciso di mettere in campo ogni risorsa disponibile per garantire controlli H24. Polizie e carabinieri pattuglieranno le strade per contrastare risse, rapine e ogni altro tipo di reato. I vigili urbani, attivi principalmente sulle spiagge, per cercare di far rispettare le norme anti-covid. A scendere in campo anche il gestore della discoteca Praia di Gallipoli che a proprie spese paga una vigilanza notturna per la Baia Verde. C'è stato un aumento dei giovani arrivati a Gallipoli, in particolare nell'area di Baia Verde. Certo qualche bravata non manca, alla fine sono ragazzi. Alla tutela proprio del patrimonio privato, quindi a tutela dei residenti di Baia Verde ma anche della stessa chiesetta, delle attività commerciali abbiamo pensato di stipulare un contratto con un istituto di vigilanza al fine di poter vigilare proprio le case, le attività commerciali, tutto quello che è all'interno di Baia Verde stessa. La collaborazione con le forze dell'ordine mai come quest'anno è piena, ci sentiamo tutelati. Onestamente nel momento in cui succede anche il piccolo episodio e contattiamo il commissoriato piuttosto che il comando dei carabinieri, una volante arriva immediatamente. Siamo ormai ad agosto, si può pure tracciare un bilancio di quella che doveva essere una stagione negativa e che sta qui a Gallipoli riservando delle sorprese. Quello che si è verificato è che i giovani hanno risposto bene soprattutto sulla città di Gallipoli, sono arrivati qua in massa oltre ogni più rossi a previsione.